C'era una volta due innamorati devoti che partirono in un pomeriggio estivo per godersi il sole, la brezza calda e il piacere della reciproca compagnia. Topolino e Minni erano così felici che erano certi che tutti dovessero sentirsi allo stesso modo. Mi piassa così, ahimè! La gioia non si trova in tutti i cuori dove dovrebbe esserci amore e gentilezza. Ci sono gelosia e rabbia. La strega, Miss Rabel, aveva un cuore del genere pieno di oscurità e invidia. Va bene, Minni. Scommetto che il sole tornerà in un attimo. Il desiderio di Mickey non si avverò. Il giorno si trasformò in notte e i cieli tuonavano di cattivo umore. Nel breve momento in cui Topolino chiuse gli occhi contro il lampo accecante, la sua felicità fu distrutta. La strega malvagia, Miss Rabel, aveva rapito molti. La vecchia megera era sempre stata gelosa della bellezza del topo. Ora gliela avrebbe rubata. Oh, Mickey, non apprezzi mai ciò che hai finché non è andato via. Non è vero? No, no, ridammelo! Mentre Miss Rabel prendeva il volo con la sua amata Minni, Mickey sapeva che doveva agire in fretta. avvertendo con tutte le sue forze inseguì la strega attraverso la foresta. Mickey corse e scorrazzò fino a... il castello delle illusioni. ominoso e terrificante, il castello si stagliava contro l'orizzonte come un'ombra da un orribile incubo. Perduto e solo, cosa poteva fare Mickey? Fortunatamente il destino intervenne sotto le spoglie di un misterioso vecchio topo. Attenzione, ragazzo, perché i piani di Miss Rabel sono davvero malvagi. Usando un incantesimo magico, lei intende rubare la giovinezza e la bellezza di Mill. Il tuo amore sarà lasciato orribile come lo è ora la strega. E il suo cuore conterrà solo odio e rabbia. Oh, come posso salvarla? Cosa ho fatto? Devi trovare le sette gemme arcobaleno che creeranno il leggendario Ponte Arcobaleno. Ti porterà dove Minnie è tenuta prigioniera. Ma attenti ai custodi delle gemme. Sono dei miserabili primi ministri della miseria e non rinunceranno facilmente ai loro tesori. Gemme! Custodi delle gemme! Ho capito! Aspetta, dove le trovo? Nel castello delle illusioni di Miss Rabel. Ma stai attento, giovane topo. La strega ha creato mondi strani e creature bizzarre per impedirti di raggiungerle. Ogni gemma è custodita da uno dei maestri dell'illusione di Miss Rabel. Sconfiggili per reclamare il tuo premio. E ricorda! Usa grande cautela. Mickey non prese alla leggera le parole del vecchio topo. Lo ringraziò e corse verso i cancelli del castello. Grazie!